Completiamo tutta la parte di make up dell'occhio, come abbiamo già detto in precedenza, aiutandoci con queste cinque tonalità di Vore Makeup. Parto con il cinnamon da asciutto e vado ad applicare proprio sopra alla matita numero 6 che abbiamo utilizzato prima. Ora, per dare un effetto proprio più chiaro nella parte iniziale, prendo il mio pink e lo lascio posizionato solo nella parte iniziale, così. Abbiamo una luce più chiara all'inizio, una parte più scura, adesso dobbiamo creare un trend union, quindi probabilmente vado a prendere una parte di Valerie per andare a creare questa tonalità mediana. Per finire vado a prendere una punta di outful, che è il colore proprio più vivo, e lo vado ad inserire nella cut crease, proprio qui. Apriamo. Molto bene.